Buongiorno a tutti, chiedo silenzio per favore. Inizierei passando in foglio, ho raccolto i nomi di chi ha firmato e ha segnato il suo nome e la sua mail la scorsa lezione, vi chiedo se potete segnare con un avvi di fianco al nome, se è corretto perché alcuni nomi non mi erano chiari, e a chi non c'era la scorsa lezione di aggiungere il suo nome in fondo alla lista, solo per chi non c'era gli chiedo di aggiungere anche la mail, per tutti gli altri basta un avvi di fianco al nome. Ok, inizio comunicandovi alcune informazioni pratiche sul corso. Per quanto riguarda gli esami, come sapete per i frequentanti, quindi per chi parteciperà alle lezioni, sono previste una serie di prove parziali, che sono sia scritte che orali in gruppo, ma vi spiegheremo poi praticamente in cosa consisteranno le prove in gruppo più avanti. Sono tutti esercizi abbastanza puntuali e non eccessivamente complessi, ma per quanto riguarda le prove parziali saranno due. Una che si svolgerà più o meno a metà corso e coinvolgerà sia la parte spiegata dalla professoressa Scrabelli sia la prima parte di questo modulo. E alla fine di questo modulo, quindi il modulo C, ci sarà un secondo parziale dedicato solo alla seconda parte del modulo C. Quindi per chi segue le lezioni, fa tutte le attività, partecipa in classe, il modulo C si conclude con il secondo parziale. Non ci sarà bisogno di portarlo all'esame orale, ma di questo poi invieremo tutte le informazioni dettagliate su Teams nel corso dei prossimi giorni. Questa è l'informazione riguardo a questa ultima cosa. Quindi su Teams sarà caricato entro una settimana un documento con tutte le distribuzioni dei voti in termini percentuali per i frequentanti. Per i non frequentanti ci sarà un altro programma che avrà altre indicazioni. Vi ricordo che per i frequentanti la presenza e la partecipazione in classe sono fondamentali. Questo sia perché, per esempio, nel corso del nostro modulo ci sarà, oggi no, ma alla fine di ogni lezione, un piccolo riassunto con alcune indicazioni che serviranno per i parziali. Sia perché una parte della valutazione consiste in ciò che si fa in classe, quindi non è considerabile frequentanti chi fa solo l'esercitazione in gruppo ma poi non viene alle lezioni. Oltre a questo, nei prossimi giorni saranno caricati su Teams anche i materiali bibliografici nel modulo C, quindi per quanto riguarda ciò che dovete leggere insieme a ciò che viene spiegato in classe. Quindi da una parte le lezioni in classe, da una parte il materiale bibliografico che compongono ciò che dovete sapere per quanto riguarda i parziali sarà caricato su Teams entro una settimana. Per qualsiasi informazione o dubbio, per scrivere a me, questa è la mia mail istituzionale, simone.ferrari1, ricordatevi il numero perché non tutte lo hanno, chiocciolounimi.it. Riguardo al programma del corso, riguardo a ciò che vedremo in queste lezioni, quindi quelle del mercoledì alle 10.30 in aula M204, qua in questa sede un po' ospedaliera che è Santa Sofia, sostanzialmente tratteremo tre macro tematiche. Iniziamo oggi con una grande introduzione a quella che è la geografia culturale dell'America di lingua spagnola, quindi dell'area regione ispano-americana, dentro l'America Latina, dentro il continente americano. Dopo questa introduzione, che fa parte anche essa del programma, avremo sostanzialmente tre grandi tematiche. La prima è la cosiddetta visione dei vinti di ciò che si conosce come la scoperta e conquista dell'America da parte dell'impero spagnolo. Sappiamo che non è solo l'impero spagnolo che conquista l'America, ma è il primo a portare avanti i suoi uomini e soprattutto è ciò che ci riguarda quando pensiamo all'America di lingua spagnola, pensiamo solo a quella parte di America conquistata dall'impero spagnolo. In questo visione dei vinti tratteremo sostanzialmente quelle che si conoscono come le cronache no blancas, ovvero le cronache che raccontano la conquista non dal punto di vista degli europei, spagnoli, italiani, che viaggiano in America Latina e raccontano ciò che vedono, siano essi viaggiatori, siano essi militari, siano essi capi delle spedizioni, ma dal punto di vista di persone, diciamo normalmente di classe alta, ma che appartengono in qualche modo a un'etnia, a una cultura indigena. Nello specifico parliamo di Garcilaso e l'Inca, un mestizo, quindi una persona figlia di una Inca, che è uno spagnolo, ma che conosce la lingua Quechua, che conosce la storia culturale dell'impero Inca da prima dell'invasione spagnola e che racconta da un'altra prospettiva quella che la conquista. E un secondo cronista, Felipe Huaman Poma de Ayala, anch'esso parlante la lingua Quechua, ma che scrive in spagnolo quella che è la più lunga cronica sulla conquista d'America, che verrà scoperta, nonostante sia scritta 300 anni prima, a inizio 900 in una biblioteca di Copenhagen. Di questo parleremo più avanti. Quindi questo è un po' il primo macro tema, lo scontro culturale tra gli spagnoli che arrivano in America e le grandi popolazioni, le grandi civiltà che vivevano in America, che avevano costruito delle società in alcuni casi molto complesse, come nel caso degli Astechi, dei Maya e degli Inca, e che raccontano dal loro punto di vista come è andata, secondo la loro cosmovisione, la loro visione del mondo, la conquista. Il secondo grande macro tema è dedicato a un'epoca successiva, l'epoca dell'indipendenza degli stati ispano-americani dalla colonia spagnola, quindi nel corso dell'Ottocento, come sapete, tutti progressivamente, non insieme, tutti gli stati ispano-americani raggiungono l'indipendenza della colonia spagnola. Nonostante questo, nella costruzione dell'idea di stato-nazione in questi paesi, molto spesso l'indigeno è relegato all'esclusione, alla marginalità. La fine della colonia non significa la fine dell'esclusione sociale e culturale delle realtà indigene del continente. In questo contesto si forma e si sviluppa una corrente politica, letteraria e culturale, conosciuta come indigenismo, che prenderà varie forme tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento e racconterà, noi studieremo ovviamente ciò che si scrive, quindi dal punto di vista della letteratura, questa situazione di discriminazione, esclusione sociale e culturale dell'indigeno dall'America latina che si costruisce come indipendente e che sceglie di escludere dalle proprie radici e soprattutto dal proprio presente la realtà indigena. Tuttavia, la grande problematica che tratteremo è legata al fatto che tanti degli autori che scrivono e che si considerano indigenisti non sono indigeni. In qualche modo si appropriano e scelgono di stare dalla parte, diciamo così, delle società indigene pur non essendolo identitariamente, etnicamente e culturalmente. E questo implica una serie di problematiche. fino a quanto questo atto solidale è utile alle comunità indigene, alle società indigene e fino a quanto è invece un processo di appropriazione culturale e di rivendicazione di diritti e pensieri che magari non appartengono alle comunità indigene. Infine, la terza grande tematica che tratteremo alla fine del modulo riguarda i nostri giorni, quindi l'epoca contemporanea, quando per la prima volta nel corso della storia letteraria latinoamericana scrittori e scrittici indigeni iniziano a scrivere letteratura come la intendiamo in Europa, ovvero letteratura secondo una scrittura alfabetica e certi canoni, quelli della poesia, del romanzo, del racconto, ma a partire da una visione del mondo diversa. Utilizzano lo spagnolo, perché noi ovviamente possiamo leggere lo spagnolo, non conosciamo, almeno non credo che qui ci siano tanti parlanti della lingua Ketsua, della lingua Aymara, della lingua Nahuatl, quindi studieremo quella parte di scrittori e scrittrici indigene che scrivono magari versioni bilingue o versioni spagnole, o in lingua spagnola la propria letteratura, e che raccontano quindi, si appropriano del diritto di raccontarsi, di dirsi, da una loro prospettiva, utilizzando sì la lingua del conquistatore, la lingua spagnola, ma adattandola a quella che è la propria visione del mondo, sia a livello formale, quindi in qualche modo mescolando lo spagnolo con le lingue proprie e anche con varianti specifiche regionali, ma anche a livello di contenuti, come si sviluppa questa lingua, secondo una sintassi, secondo una forma di vedere il mondo, che è propria di società diverse da quella dell'impero spagnolo e che quindi producono una letteratura che racconta un altro modo di vedere e di vivere il mondo. Se, per quanto riguarda l'indigenismo, gli autori che affronteremo in classe, poi dovrete leggerle tutti ovviamente, ognuno di voi sceglierà un romanzo e una raccolta di poesie che dovrà leggere e poi portare all'esame parziale. Per quanto riguarda l'indigenismo, tratteremo alcuni romanzi, gli autori, vedremo i titoli la prossima lezione, ma gli autori, perché abbiate alcuni riferimenti, sono autori come Alcides Argedas, il primo grande, considerato il primo grande scrittore boliviano, Jorge Icasa dell'Equador, che scrive un'opera fondazionale per quanto riguarda il cosiddetto movimento letterario indigenismo, Wasipungo, una delle prime opere tradotte in italiano quando si sviluppa l'hispano-americanismo in Italia, Siro Alegria, il Munde Sancio Iajeno, e José María Argedas, che non si definisce, non si definiva esattamente indigenista, ma che compie un'operazione un po' più complessa di connessione interculturale tra i due grandi mondi che vive, quello della società urbana, limegna, peruviana, in qualche modo già profondamente legata all'Europa, alla cultura spagnola, e le sue radici andine, le sue radici del Perù, Quechua, lingua che parla perfettamente. Dunque, questo è un po' il programma. Inizieremo quindi oggi con un quadro, diciamo così, geografico e culturale, un piccolo viaggio per l'America Latina per capire quali sono gli spazi, quali sono anche le differenze, le specificità di ognuna di queste aree. Prima di iniziare vi chiederei un piccolissimo esercizio che potete fare magari in piccoli gruppi, rispondendo a una semplice domanda, anzi a due domande che vedete numerate qua. vi chiedo di utilizzare magari un device, un telefono, un iPad, un computer, qualunque cosa abbiate. Metto il link nella chat di Teams della riunione e vi dico brevemente cosa dovete fare. Potete appunto anche farlo in piccoli gruppi, vi lascio qualche minuto, rispondere a queste due semplici domande, senza paura di spagliarvi, di scrivere cose che magari non sono corrette, tanto sono anonime, quindi non preoccupatevi, e sono la prima, quali popoli, società, culture, indigene sapete nominare, quali avete sentito nominare, ovviamente nel contesto che studiamo, quello dell'America. E la seconda, quali parole, una, due, tre, cinque, associate al concetto di indigeno, cosa vi suscita la parola indigeno, a quale parola, a quale altra parola l'associate. vi chiedo di rispondere utilizzando il link che ho mandato nella chat di Teams, e lì vedrete che c'è questo più, da cui potete aggiungere, o forse questa è la prospettiva di chi ha costruito il Paypalet, quindi non so esattamente se è armata avviata, ma comunque potete inserire una risposta. Vi lascio un paio di minuti. Grazie. Credo che sia, credo di sì. Sì, il Paypalet è molto... Qualcuno è riuscito a rispondere. Quindi sì, dovreste schiacciare più e digitare la risposta. Grazie. 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 Ancora un minuto Ok, grazie Vediamo le ultime Scusate, me le inserisce in ogni lato quindi si mettono una sopra l'altra vi chiedo scusa se non appare qualcuna Perfetto, queste parole sono assolutamente diciamo in linea con i grandi immaginari che abbiamo nell'attualità diciamo gli immaginari dominanti sulle società, sulle culture indigene oggi, quindi nel 2023 tuttavia come vedete i grandi nomi di società indigene che diciamo vengono evocati nella nostra mente appena si ascolta la parola indigeno o indio in caso spagnolo poi chiariremo la differenza sono civiltà associate al passato al passato diciamo precedente all'invasione spagnola le società steche le società inca in particolare sono due società che vengono distrutte dalla conquista spagnola la società maya aveva già subito un declino ben prima della Rio degli Spagnoli lì era stata anche conquistata parzialmente dagli stessi astechi ma bisogna considerare che rispetto a inca e astechi che hanno avuto una storia diversa le società maya esistono ancora in Guatemala milioni di persone si identifichano come maya ovviamente vivono secondo altre regole sociali rispetto a 500 anni fa come tutte le civiltà del mondo ma ricordatevi sempre che le società maya sono ancora esistenti vive, presenti nel sud del Messico in Guatemala in certe zone dell'Honduras e del Salvador dunque qualcuno ha nominato giustamente anche popoli lingue e civiltà che esistono ancora che ancora vive come gli Aymara in Bolivia tra la Bolivia e il Peru altre civiltà magari considerate minori a livello di numeri e quantità ma altrettanto importanti a livello di cultura le parole che vengono associate quindi diciamo la parte destra dello schermo in cui avete inserito delle parole da associare al concetto indigeno ci restituiscono uno stesso immaginario in qualche modo in via di estinzione civiltà che o sono scomparse o sono associate a qualcosa non ancora evoluto parole come primitivo ritualità soppressione quindi scomparsa oppure tanti concetti sono invece legati a quest'idea di che le società indigene siano scomparse oggi che le società indigene siano un ricordo del passato altre parole sono molto interessanti perché per esempio caociu e quello della pelota ci danno altre prospettive su quello che hanno vissuto le società indigene in America il caociu come sapete è una pianta da cui si ricava la gomma per fare gli pneumatici eccetera e il caociu è stato uno strumento di sfruttamento estremamente importante per diciamo le aree amazzoniche da parte di alcune realtà nazionali e transnazionali che hanno sfruttato le popolazioni indigene amazzoniche per coltivare il caociu sostanzialmente in condizioni di schiavitù quando in teoria la schiavitù era già scomparsa quello della pelota il gioco inventato nelle aree del centro America da diverse comunità indigene il gioco della palla così si conosce se andate su youtube potete vedere varie dimostrazioni ed è una tematica estremamente rilevante per la costruzione identitaria del centro America oggi quando si parla delle proprie origini sempre in centro America si menziona il juego della pelota soprattutto in zone come Puerto Rico dove le culture indigene magari sono andate disperdendosi nel contatto con le culture africane con le culture anche europee il juego della pelota rimane un riferimento in ogni caso vediamo anche diciamo definizioni che richiamano tutti i processi di conquista quindi la schiavitù la soppressione dall'altra parte la resistenza quindi guerrieri questo concetto di popolazione che non si arrende non civiltà quindi l'indigeno come negazione del progresso l'indigeno come barbarie da queste parole emerge una visione del mondo che è prodotto dei grandi immaginari sulla questione sulla società sulle società indigene prodotti con le prime scritture di Cristoforo Colombo e degli altri conquistatori che scrivono come sono le società indigene questi immaginari circolano in maniera estremamente capillare in Europa e si insediano fino ad oggi nelle culture europee tutt'oggi le società indigene sono considerate società del passato società distrutte società morte nel presente sono associate solo al folklore all'esotismo al prodotto artigianale alla persona che è al piccolo spiraglio di passato che è sopravvissuto nel presente e questi immaginari sono quelli che proveremo a decostruire in questo corso proveremo almeno a mettere in dubbio perché ovviamente alcune cose sono assolutamente corrette come una concezione del mondo in simbiose con la natura in alcuni casi tuttavia come vedete non c'è per esempio nessun riferimento alla città la società indigena la persona indigena non viene immaginata in una città quando arriva in una città smette di essere indigeno secondo l'immaginario collettivo che non riguarda solo l'Europa ma anche la stessa America Latina quindi questo è un panorama che ci dà un po' l'idea di quelli che sono i grandi immaginari non sempre corrispondenti a verità che diciamo si relazionano al concetto di società indigena bene iniziamo dunque ad affrontare questa questione a partire da quelli che sono questi grandi immaginari signore vi scrivo la presente per la quale apprenderete come in 33 giorni io sono passato dalle isole di Canaria alle Indie con l'armata che gli illustrissimi re e regina nostri signori mi affidarono e dove ho scoperto moltissime isole popolate di gente infinita delle quali tutte ho preso possesso delle gente con bando e bandiera reale spiegata senza che nessuno mi si opponesse alla prima isola che io incontrai posi il nome di San Salvador per commemorazione della sua alta maestà la quale tutto questo ha miracolosamente donato e gli indios la chiamano Guanani la seconda denominai l'isola di Santa Maria di Concepzione la terza Fernandina la quarta la Isabel la quinta l'isola Juana e così a ciascuna diede un nuovo nome questa è la prima lettera che invia Cristoforo Colombo a Luis de Sant'Angel che era sostanzialmente l'equivalente di un ministro delle finanze alla fine del Quattrocento nel regno nell'impero spagnolo di Isabel e Fernando V che governavano insieme erano un matrimonio come si dice spagnolo una coppia che governava l'impero appena unitosi non tra Castiglia e Aragona lettera scritta tra il 15 febbraio del 1493 e il 14 marzo del 1493 ovviamente questa è una traduzione all'italiano dallo spagnolo di fine Quattrocento quindi un spagnolo diverso dall'attuale sia a livello ortografico che alcune espressioni sono cambiate e questa è la prima volta in questa lettera appare per la prima volta la palabra Indios in questo piccolo passaggio inizia a costruirsi l'immaginario sull'Indio poi diventerà indigeno nelle letterature ispano-americane perché il testo è scritto originariamente in spagnolo ed è la prima volta che appare la parola Indio cosa succede in questo testo? innanzitutto si può notare un'attitudine che ha Cristoforo Colombo che leggendo i suoi diari noterete come costante e continua Svetan Todorov uno dei più grandi studiosi degli scritti di Colombo e diciamo della attitudine europea verso le società indigene in un testo che leggerete che si chiama La conquista dell'America il problema dell'altro definisce l'attitudine di Cristoforo Colombo come una furia nominatrice Cristoforo Colombo vuole nominare tutto ciò che vede vedete che ogni isola assume il suo nome se leggete il suo testo in ogni pagina nei suoi diari racconta come qualsiasi cosa veda la deve nominare la nomina una cascata una montagna una pianura come se fossero terre vergine come se quelle regioni non avessero un nome questa prospettiva di Cristoforo Colombo ci indica una visione specifica che hanno gli imperi europei in quell'epoca in particolare la civiltà che si considerava come la civiltà dominante sul mondo la civiltà cattolica europea secondo questa prospettiva le civiltà che non appartenevano alla religione cristiana che non parlavano una lingua discendente dal latino che non avevano una propria letteratura non erano civiltà degne di avere storia per cui la forma in cui le comunità indigene nominavano quei luoghi ovvero la prospettiva del mondo che avevano le società indigene non importava gli indios la chiamano guanani in spagnolo qua vedete la versione originale o almeno una riproduzione della versione originale del testo e se los indios la chiaman guanani ma non importa noi gli diamo un altro nome immediatamente questa prospettiva poi verrà sviluppata nello studio di Todorov indicando come Colombo nomini tutte le parti d'America che conosce adattando il nome al proprio progetto di conquista ovvero non le nomina solo secondo il tipo di natura che esiste nel territorio ma facendo rientrare le denominazioni nella sua visione di America nella sua visione di un'America che inizialmente considera appunto come l'estremo oriente delle Indie dopodiché inizia a considerare come un archipelago ricordiamo che Colombo inizialmente arriva appunto a Guanani che è un'isola delle Bahamas questo archipelago che si trova attualmente di fronte a Miami sopra Cuba i primi luoghi che vede sono solo isole quindi l'inizio Colombo ha una percezione inevitabilmente distorta di quello che è geograficamente l'America un insieme di piccole isole paradisiache caraibiche a livello geografico e a livello anche climatico estremamente seducenti e a partire da quella visione costruisce un mondo e inizia a nominarlo gli Indios non è che non appaiono nel testo di Colombo appaiono ma sono considerati e sono descritti esattamente come la flora e la fauna esattamente come la natura sono oggetti la cui prospettiva non importa le uniche volte che Colombo prova a decifrare le parole nelle varie lingue indigene che ascolta Colombo diciamo così assume ancora una volta la prospettiva dell'impero dominante ovvero cerca di riportare un concetto che carpisce dalla società indigena in una traduzione esatta allo spagnolo o al genovese secondo comunque lo iscriveva sempre in spagnolo per esempio il concetto di caciche cacicco il governatore delle società indigene Colombo si tormenta per capire se quella parola equivalga imperatore o re non concepisce che nei sistemi nella società indigene possa esistere un'altra forma di vedere il mondo e di dividere la realtà voi sapete che ogni lingua divide la realtà in segmenti diversi perché indica una forma diversa di vedere il mondo ma nonostante questo Cristoforo Colombo cerca di appiattire questa diversità riducendo a traduzioni letterali espressioni indigene che in realtà hanno altro significato un'altra conseguenza di questa denominazione di indios che assegna a tutte le genti d'America Colombo è un assoluto appiattimento culturale questa espressione sarà usata nel corso dei decenni e dei secoli ricordiamo che la conquista america dura di fatto dei secoli ovvero anche nell'ottocento si hanno ancora campagne militari da parte degli stati nazioni come l'Argentina che conquista la Patagonia dove vivevano alcune popolazioni indigene in questo processo divengono tutti indios società che vivono appunto tra i ghiacciai in Patagonia società che vivono incastonate nelle altitudini andine società che vivono in piccole isole caraibiche completamente diverse tra loro sia per organizzazione che per lingua che per cultura improvvisamente si sentono nominati tutti come indios e vi è sostanzialmente un processo di omogeneizzazione culturale di queste società nello sguardo esterno divengono tutte uguali tutte ugualmente non degne di essere ascoltate come sapete questo sguardo iniziale che proviamo a dare cercherà di giocare tra il passato e il presente questa è la percezione che ha Colombo quindi che ha successivamente tutta l'Europa perché l'immaginario di Colombo i diari di Colombo saranno venduti in tutta Europa e da lì si costruisce l'immaginario sull'America in Europa delle Americhe e della conquista della diciamo così conosciuta come scoperta d'America un evento che in Europa è percepito come l'evento più straordinario della storia dopo la creazione del mondo in quel momento dall'altra parte le società indigene è una visione che è immediatamente silenziata non importa cosa pensino loro di quello che sta succedendo importa cosa cosa pensano gli scrittori che occupano i territori passiamo alla contemporaneità anni 2000 diverse società indigene ancora assolutamente vive vigenti contemporane che hanno mantenuto grazie a lunghi processi di resistenza e di difesa del territorio culturale prima che fisico le loro lingue le loro culture le loro tradizioni ovviamente non dobbiamo pensare che queste società indigene oggi vivano come 600 anni fa tutte le società progrediscono hanno ere epoche cambiamenti tensioni in una di queste società nel sud ovest della Colombia in mezzo alle Ande alla cordillera centrale delle Ande è la cosiddetta comunità NASA comunità in cui oggi si identificano circa 250.000 persone una comunità in cui da alcuni anni è attivo un processo di ricostruzione della pedagogia propria ovvero si sta cercando di proporre un modello scolastico didattico a partire dalla propria visione del mondo raccontare la storia secondo un punto di vista andino raccontare le scienze secondo un punto di vista andino eccetera questo progetto si denomina in lingua propria vedete anche la complessità diciamo così ortografica della lingua propria dice tradotto allo spagnolo gettare radici dalla parola NASA di questa comunità andina in questo progetto si ricostruisce l'avvenimento della conquista a partire dal punto di vista proprio quindi a partire dai grandi miti dai grandi racconti che circolano da decenni a secoli sulla conquista nel nord delle Ande quindi tra Ecuador e Colombia il testo che presenta questo progetto inizia così hace muchos años estos vaches eran tierra e hogar de nuestros pueblos che vivían en esta región che hoy se llama sur occidente de lo que hoy se llama Colombia vivían a lo bueno dedicados a comer a beber mascar ofrendar tejer danzar un día de 1535 llegó la conquista una noche nos accostamos NASA y amanecimos indios traduco perché sta ancora prendendo confidenza con lo spagnolo tanti anni fa queste valli erano terra e luogo dei nostri popoli che vivevano in questa regione che oggi si conosce come sud occidente di quello che oggi viene chiamato Colombia vivevano in forma semplice si dedicavano a mangiare a bere a masticare le foglie di coca come sapete sono strumento rituale ma anche nutriente nutritivo per le società andine offrendar quindi fare offerte agli spiriti tejer tessere danzare un giorno del 1535 anno in cui la Colombia viene conquistata il sud occidente della Colombia viene conquistata da Sebastián de Bellalcázar è arrivata la conquista una notte siamo andati a dormire che eravamo NASA quindi che eravamo gente NASA significa gente che eravamo uomini e ci siamo svegliati che eravamo indios questo piccolo racconto dà l'idea di quella che è stata la percezione almeno nelle società andine ovviamente ogni società ha avuto una percezione diversa dell'arrivo degli spagnoli della conquista la conquista secondo le società andine è stato un paciacuti una rivoluzione violenta dello spazio e del tempo paciacuti è una parola aimara dove pacia significa il condensarsi dello spazio del tempo e cuti significa rivoluzione cambio radicale e violento nella prospettiva andina quindi dell'area andina di cui parleremo più tardi in questa lezione la conquista viene ricevuta come un fatto irreversibilmente doloroso e che cambierà per sempre la storia propria quindi da una parte l'evento più straordinario della storia dopo la creazione del mondo nella visione dell'Europa cristiana e cattolica nello specifico dall'altra una rivoluzione che porta a un dolore irreversibile questa è la citazione è il movimento da cui viene estratta questa citazione il processo di liberazione della madre terra dunque la parola indio appare nel 1493 la prima volta viene anche interiorizzata dalle questa comunità si trova nella regione andina della Colombia nel sud ovest della Colombia attuale ovviamente dunque dal 1493 ogni volta che avete dei dubbi serve che ripeta qualcosa interrompetemi pure dal 1493 quindi da quando Colombo scrive per la prima volta la parola indios progressivamente questa parola viene anche interiorizzata delle stesse società indigene che iniziano a denominarsi come tali noi utilizzeremo questa espressione nello specifico l'espressione indigeno che è diciamo un'evoluzione in qualche modo meno despectiva meno diciamo più neutra del concetto di indio ma nella prossima lezione inizieremo a problematizzare questa idea di indigeno tuttavia le stesse società indigene iniziano a definirsi tali e in qualche modo interiorizzano lo sguardo coloniale capiscono che per la sopravvivenza è necessario il loro silenziamento culturale capiscono che non devono parlare la lingua propria perché considerata la lingua del diavolo iniziano a imparare lo spagnolo per sopravvivere capiscono che i loro rituali le loro usanze spirituali non devono praticarle in pubblico o verranno uccisi e quindi iniziano a nascondere la propria cultura e progressivamente a interiorizzare lo sguardo coloniale ovviamente questi processi non sono uniformi in alcune regioni ci sono società indigene che non hanno mai ceduto un passo alla cultura spagnola e sono riuscite a mantenere completamente l'integrità culturale ovviamente evolvendo altri in cui la cultura diciamo dei propri ancestri è definitivamente scomparsa a seconda di come agivano militarmente da una parte e spiritualmente dall'altra gli spagnoli quindi con la conquista militare da un lato e con la conquista spirituale dall'altro ovvero la conversione degli indigeni in cattolici che era di fatto secondo quanto scrive Colombo il suo grande obiettivo ovvero civilizzare le società indigene attraverso la conversione al cattolicesimo la parola indio nasce nel 1493 ovvero prima dello stesso concetto di America concetto di America ne parlerete poi più dettagliatamente lunedì con la professoressa Scarabelli che appare per la prima volta in questa enorme mappa un planisfero realizzato nel 1507 da un cortografo tedesco di cui qua vi lascio il nome Martin Walz Muller il primo planisfero che rappresenta i quattro continenti quindi oltre all'Europa l'Africa e l'Asia che erano i tre continenti secondo Sant'Agostino che componevano il mondo per la prima volta appare un'America inevitabilmente un po' distorta rispetto a come la rappresentiamo oggi perché era ancora diciamo così non del tutto scoperta e si stava iniziando a immaginare se vedete qua c'è un dettaglio della parte diciamo in basso a sinistra della mappa appare per la prima volta la parola America che come sappiamo è dedicata ad Amerigo Vespucci italiano viaggiatore insieme e dopo Colombo per le Americhe uno dei primi ad accoggersi delle dimensioni geografiche reali dell'America ovvero che si parlava di un continente e non di un semplice archipelago partire da questa nozione di America nel corso degli anni si sono sviluppate dei secoli si sono sviluppate una serie di categorizzazioni del continente che dovete avere assolutamente chiare iniziando dalla prima America una delle cose che dovete assolutamente tenere in considerazione quando vi presentate all'esame è che una persona americana è una persona che vive nel continente americano l'America non equivale agli Stati Uniti gli Stati Uniti sono abitati dalle persone statunitensi l'America è un continente che inizia in Alaska e che finisce in Patagonia in cui vivono gli americani quindi cortesia non utilizzate l'espressione americani per definire le persone che vivono negli Stati Uniti gli Stati Uniti sono uno Stato dell'America come se si chiamasse l'Europa Germania no la Germania è uno Stato dell'Europa il continente intero l'America geograficamente come sappiamo si divide in nord centro e sud quali sono gli stati che compongono il nord dell'America sono tre stati in nord America Canada Stati Uniti e Messico spesso tanti si dimenticano il Messico che essendo culturalmente associato al centro America viene anche geograficamente associato al centro America in una divisione anche in qualche modo simbolica e politica del mondo tra nord e sud che c'è tante regioni del mondo anche in America il Messico e in nord America insieme appunto al Canada e gli Stati Uniti è l'unico stato dell'impero spagnolo nella regione geografica del nord America abbiamo poi il centro America che è questo piccolo ismo che connette le due grandi parti del continente quindi il nord e il sud un piccolo ismo però composto da tanti stati grondanti di cultura Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panama e poi e poi un'altra regione diciamo territorialmente molto estesa che è il sud America che inizia quindi con la Colombia con questa regione di frontiera tra Panama e la Colombia di cui parleremo perché è culturalmente estremamente rilevante si espande in questa enorme zona che diciamo così è composta da due aree geografiche in contrasto tra loro ma estremamente connesse che sono le Ande e l'Amazzonia e si sfocia diciamo così nelle grandi pianure che poi divengono ghiacciai del sud del continente della cosiddetta Pampa Argentina che diventa Patagonia lunedì parlerete in maniera più dettagliata del concetto di Latino America ovvero concetto introdotto secoli dopo la scoperta dell'America nell'Ottocento concetto che rimanda a quelle zone dell'America conquistate da imperi che parlavano una lingua derivante dal latino quindi l'impero spagnolo l'impero portoghese l'impero francese di fatto alcuni considerano anche il Canada e la latino America perché è stato prima conquistato in parte dai francesi anche se poi è stato assorbito dalle zone di influenza anglofona un altro concetto utilizzato spesso sempre diciamo ispirandosi alla geografia europea la cosiddetta penisola iberica composta da Spagna e Portogallo quindi libero America tutta quella regione dell'America costituita da stati nazioni che sono stati colonizzati dall'impero spagnolo e dall'impero portoghese principalmente come sappiamo il Portogallo in America ha conquistato il Brasile che sarà pure uno stato solo ma come vedete occupa una larghissima parte dell'America diciamo così iberica infine l'ispano America ovvero la regione di cui ci occupiamo noi quegli stati d'America 19 che parlano maggioritariamente la lingua spagnola non solo la lingua spagnola bene queste divisioni per favore vi chiedo di averle molto chiare considerando questo anche per dire che quando vi si chiede dove si trova il Messico il Messico non si trova in Sud America questo ci è chiaro evidentemente guardando la mappa ma dato che succede spesso agli esami l'America di lingua spagnola non è il Sud America non è solo Sud America anche tutto il Centro America sostanzialmente almeno il Centro America continentale è una parte dell'area caraibica a parte il Belize un piccolo stato diciamo lingua maggioritaria inglese dove però di fatto si parla anche tanto spagnolo e il Messico in Nord America bene tutte queste visioni tornando alla visione indigene o almeno ha messo in discussione tutti questi termini dalla prospettiva indigene sono tutte idee plasmate a partire dalla prospettiva degli imperi il concetto dell'America nasce in Europa Latino America evidentemente guarda alla lingua latina le sue discendenze negli imperi in epoca moderna la lingua spagnola la penisola iberica in queste definizioni non si ha nessuna percezione delle società che vivono in questo continente o almeno di alcune delle società che vivono in questo continente Walter Mignolo un importante studioso contemporaneo delle geografie culturali del continente ribadisce sempre che quando si parla di America latina bisogna distinguere la parola dalla cosa l'America latina non è una cosa non è un luogo non è uno stato l'America latina è un'idea un'idea creata e plasmata attraverso secoli di scrittura dall'Europa ci sono tante espressioni indigene che possono sostituire l'espressione di America e che non circolano o almeno non circolano con la stessa rilevanza come questi termini questo sempre diciamo per mettere in discussione un po' a queste espressioni per tenere conto del fatto che le parole che usiamo hanno sempre una storia e questa storia è legata alla relazione tra lingua e potere concretamente cosa parliamo quando parliamo di Spano America appunto 19 stati Messico vedete è uno stato molto grande il più popolato dell'America di lingua spagnola il centro America continentale quindi dal Guatemala la zona di maggiore influenza della cultura maya attuale El Salvador e Honduras due stati sostanzialmente geograficamente complementari uno guarda al mare dei Caraibi l'altro al Pacifico Nicaragua Costa Rica e Panama per quanto riguarda l'area caraibica sapete che nei Caraibi si parlano tante lingue ci sono state tante guerre tra i vari imperi si parla francese in alcune isole si parla inglese in altre isole si parlano lingue criogias lingue frutto della mescolanza tra varie lingue neolatine romanze in queste aree in alcune aree in alcune isole dove si parla spagnolo è a Cuba nella Repubblica Dominicana e a Puerto Rico per quanto riguarda invece il Sud America che come abbiamo detto inizia con questa frontiera tra Panama e la Colombia abbiamo diciamo un numero relativamente piccolo di stati rispetto alla dimensione del continente Colombia e Venezuela che affacciano sul mare dei Caraibi tutta una serie di stati che guardano allo stesso tempo all'oceano Pacifico alle Ande e all'Amazzonia che sono la stessa Colombia l'Equadori il Perù e il Cile una zona andina e della cosiddetta regione del Chaco che è composta da Bolivia e Paraguay e poi Argentina e Uruguay che sono spesso associate culturalmente anche a livello linguistico nelle varianti di spagnolo che si parla in ogni paese quello dell'Argentina e quello dell'Uruguay si assomigliano molto l'Argentina diciamo che è lo stato più grande tra gli stati spanoamericani diciamo occupa diversi spazi geografici anche se spesso associata solo alla PAMP c'è un'importante regione andina dell'Argentina nel nord ovest del paese e tutta la zona della regione fluviale tra Argentina Uruguay e Paraguay che è altrettanto rilevante anche a livello letterario per avere un'idea dei numeri di cui parliamo 414 milioni di abitanti in tutta l'Hispanoamerica stiamo sempre escludendo il Brasile perché in Brasile non si parla spagnolo almeno non come prima lingua e in Brasile ha più di 200 milioni di persone quindi sostanzialmente la metà dell'Hispanoamerica gli stati più popolati sono il Messico 126 milioni di persone 50 milioni in Colombia e 45 in Argentina nonostante questo territorio molto più esteso per esempio da Colombia in Argentina ha tante regioni poco popolate infatti l'Argentina è di gran lunga lo stato più grande quasi 3 milioni di chilometri quadrati rispetto ai 2 del Messico al milione abbondante del Perù che è un altro stato di un'enorme rilevanza culturale per avere una proporzione l'Italia occupa 302 chilometri 302 mila chilometri quadrati quindi 10 volte meno l'Argentina in questa mappa oltre agli 19 stati ispanoamericani vedrete la Spagna che è una mappa che indica i paesi dove si parla spagnolo come lingua ufficiale prima lingua ufficiale e un altro piccolo stato la Guinea Equatoriale forse non lo sapete ma in Guinea Equatoriale la lingua ufficiale è lo spagnolo è l'unico stato africano che ha lo spagnolo come lingua ufficiale perché l'ho inserito nella mappa perché quando si pensa alla storia agli stati nazioni scusate alla storia che ha portato la composizione degli attuali stati nazioni in America di lingua spagnola non si può pensare solo alle relazioni con l'Europa è inevitabile pensare alla storia dell'America come una storia almeno di triangolazione tra Europa Africa e appunto America la tratta degli schiavi che si impone nel Settecento e dura anche nell'Ottocento porta portoghesi e spagnoli ad avere un interesse specifico per quest'area dell'Africa occidentale tanto che nel 1778 vengono scambiate alcune terre portoghese con terre di colonia spagnola e la Spagna acquisisce la Guinea equatoriale da cui può avere un porto per far partire gli africani utilizzati comprati come schiavi verso le zone caraibiche che come sappiamo hanno un'alta presenza afroamericana o diciamo della cultura africana e di persone che sono arrivate dall'Africa alcuni secoli fa mentre poi anche in queste regioni di costa della Colombia e del Venezuela o della costa pacifica dell'Equador c'è una grande presenza della cultura africana diciamo in proporzioni molto minori anche in alcune zone dell'Uruguay e pochissime dell'Argentina mentre la zona andine sono quelle che hanno visto un minore afflusso delle culture africane anche qua quando pensiamo gli stati in azione come sono oggi non possiamo considerare non possiamo non considerare il fatto che quando gli stati spanoamericani divengono indipendenti quindi nel corso dell'Ottocento i confini sono completamente diversi il Messico è più grande degli Stati Uniti la Colombia è in realtà la Gran Colombia un grande stato che include il Venezuela Panama e l'Equador fino al 1900 Panama è una regione della Colombia strappata dopo la cosiddetta guerra dei mille giorni nel 1903 con l'assistenza degli Stati Uniti è resa indipendente Cile Peru e Bolivia hanno affrontato diverse guerre tra loro la più importante nel 1880 che ha portato diciamo alla sparizione di un'area marittima nella geografia boliviana vedete che la Bolivia non si affaccia non si affaccia più al mare dopo che il Cile ha conquistato quest'area è anche un'area del Peru il Peru e Colombia hanno nel corso del Novecento avuto diverse guerre nell'area amazzonica quindi sono tutti i confini instaurati nel corso degli ultimi decenni ma che hanno avuto una lunga storia di cambiamenti anche dopo l'indipendenza altro elemento a considerare ancora assumendo la prospettiva indigena le società indigene l'organizzazione delle frontiere tra società indigene non prende in considerazione le frontiere tra paesi tra stati nazioni quindi per esempio la grande area mapuce del sud del continente è un'area che attraversa Cile e Argentina un'altra importante cultura indigena caraibica i huayù vivono in un'area che attraversa Colombia e Venezuela le popolazioni aimara vivono in un'area che attraversa Peru e Bolivia e così via i maia tra Messico Guatemala e Honduras bene proprio per questa ragione ovvero che quando pensiamo nella prospettiva della società indigene dobbiamo decostruire queste frontiere tra stati e nazioni per conoscere le varie aree geografiche della Colombia dobbiamo pensare alle aree culturali piuttosto che agli stati nazioni questa è la divisione più canonica tra le diverse aree culturali del continente è una divisione che ha una serie di problematiche per cui io preferisco adottare questa mappa ma sicuramente ci dà un'idea a grandi linee abbiamo una prima importantissima area che è la cosiddetta area mesoamericana qui sostanzialmente si trovano il Messico e il Guatemala e alcune parti a seconda poi di come si stabiliscono le frontiere alcune parti dell'Honduras e del Salvador la cosiddetta area caraibica che da una parte ha le isole caraibiche ma dall'altra anche una importante area di caraibi continentali che a mio avviso non dovrebbe includere solo il Venezuela ma anche la Colombia un'area intermedia che connette in qualche modo le culture mesoamericane con quelle del Sud America quindi parliamo per esempio del Nicaragua del Costa Rica di Panama e di una certa parte della Colombia le due aree forse più più immaginate del Sud America quindi l'area andina dove si estende tutta la cordigliera che parte in realtà dall'occidente del Venezuela attraversa una parte della Colombia l'Equador il Perù la Bolivia e sfocia in Cile e Argentina l'immensa area amazzonica che non è così immensa in realtà perché come vedremo questa parte del Brasile non ha Amazzonia e poi l'area patagonica questa divisione adesso torneremo su ognuna di queste aree quindi fatevi se perdete qualcosa questa divisione diciamo parte dalla precedente per arrivare un po' più nello specifico segnalando per esempio che esiste una regione tra i Caraibi e l'Amazzonia che è l'Orinocchia che è una grande pianura che si estende tra Colombia e Venezuela che non è né una selva né una regione caraibica una pianura diciamo così florida e verde ma culturalmente differente dall'Amazzonia e Caraibi una zona della costa pacifica estremamente influenzata dalla cultura africana nell'occidente della Colombia nell'occidente dell'Equador e poi la mitica regione del Ciaco dove si trova l'attuale Paraguay una parte dell'Argentina una parte del Brasile una piccola parte dell'Uruguay un'altra regione fluviale pianeggiante spesso esclusa dall'immaginario quando si pensa in America Latina nessuno pensa al Paraguay eppure una regione anche per le società indigene che ci vivevano e continuano a viversi come Guarani estremamente rilevante anche insomma come zona di contatto tra il mondo di influenza spagnola e il mondo di influenza portoghese solo una piccola menzione mi sono dimenticato di fare a questi tre piccoli stati non so se qualcuno di voi ha idea di quali siano questi tre stati una è la Guiana francese l'altra è la Guiana e il terzo il Suriname sono tre stati che non prendiamo mai in considerazione quando parliamo di America di lingua spagnola ma neanche di America Latina perché sono tre stati che sono stati colonizzati rispettivamente dalla Francia la Guiana francese dall'Olanda gli altri due quando vedete per esempio calciatori olandesi che sono diciamo etnicamente di origine africana è perché vengono a queste ragioni come il Suriname e la non sempre ma a queste ragioni come il Suriname e la Guiana bene proviamo a dare un piccolo quadro di ognuna di queste almeno sei aree principali di cui dovete avere assolutamente percezione considerando che uno quando diciamo così vi presentate agli esami dovete avere chiari bene non solo i tratti che uniscono diciamo la storia dell'America Latina ma anche i tratti che distinguono le varie ragioni e dovete diciamo avere così una percezione geografica di dove sono successe le cose non è possibile sostenere che gli Astechi si siano sviluppati in Perù o che la capitale Inca si trova nell'Honduras dovete riuscire a muovervi nelle geografie non solo del presente ma anche del passato della parte di storia dell'America Latina che studiamo attraverso anche la letteratura questo perché perché come sostengono diversi autori indigenisti che affronteremo lo spazio non è solo un paesaggio decorativo lo spazio costruisce l'identità e la relazione delle persone con lo spazio costruisce un modo di vedere il mondo sono diversi intellettuali anche argentini a sostenere per esempio inizio novecento che nonostante l'enorme afflusso di europei che arrivano dall'Italia dalla Spagna in Argentina inizio secolo inizio novecento l'Argentina non sarà mai europea perché la sua relazione con lo spazio con questa immensa pianura sostanzialmente inabitata è completamente diversa dalla percezione che si ha e della relazione che si ha con lo spazio in Europa per esempio la relazione con lo spazio che si ha a La Passi in una città a 4000 metri di altitudine nelle Ande in cui i riferimenti per orientarsi sono le montagne dell'Illimani a 6000 metri sono completamente diverse per esempio dalla percezione e relazione con lo spazio che si ha nell'area caraibica in città come Cartagena città che hanno sempre visto nel corso dei secoli l'invasione di spagnoli inglesi che sono costruite nel principio di essere una fortezza un fortin in spagnolo e quindi non possiamo associare a un'unica area culturale tutta l'America Latina dobbiamo avere presenti sia le parti comuni della storia della cultura quindi sicuramente un continente è una parte del continente unita dalla conquista spagnola unita dal parlare la lingua spagnola questo è un caso unico nel mondo di un continente che parla quasi del tutto un'unica lingua e questo facilita enormemente gli intercambi culturali la creazione di correnti movimenti che siano panamericani che quindi vadano oltre i confini ma allo stesso tempo ci sono specificità di cui dovete assolutamente avere cortezza partiamo dall'area mesoamericana quindi l'area che include il cosiddetto messico quello che attualmente si conosce come messico e il guatemala è una piccola parte dell'honduras e del salvador secondo le divisioni in queste tre immagini vediamo tre momenti tutti diciamo diversamente vivi negli immaginari che condividiamo quando pensiamo all'area del messico all'area del nord del guatemala la prima immagine è una riproduzione di tenoctitlan tenoctitlan era la grande capitale asteca completamente distrutta da cortezza dall'invasione spagnola una città costruita diciamo secondo i principi di venezia ovvero costruita su una sorta di isola in un lago con un complesso sistema di canali e di connessioni descritta ampiamente dai conquistatori spagnoli che tendono sempre a riportare proprio il paragone con venezia ma che è stata poi demolita di cui purtroppo non abbiamo un lascito era sicuramente una delle città più affascinanti insieme a Machu Picchu nel sud del continente e massima espressione del livello della civiltà diciamo del livello architettonico della civiltà asteca la seconda immagine invece riproduce la piramide maya che probabilmente non so se qualcuno di voi ha intenzione di visitare o ha già visitato la cosiddetta Chichen Itza quindi una eredità del passato che si mantiene nel presente solo come spazio senza una civiltà che ne usufruisce intorni ma quando pensiamo alle popolazioni maya dobbiamo pensare assolutamente anche alla contemporaneità per questo vi lascio un'immagine anche della cosiddetta rivoluzione zapatista forse non tutti voi hanno presente sanno ubicarla in un tempo in uno spazio specifico nel 1994 quindi meno di 30 anni fa nel sud del Messico si instaura una rivoluzione guidata da alcune figure che arrivano a città del Messico ma animata dalle popolazioni maya del sud del Messico popolazioni maya che riescono a instaurare uno stato autonomo nella regione di Chiapas all'interno del Messico qua una scritta che era un po' uno dei motti di questa rivoluzione che è tuttora vigente ci sono aree autonome del Messico dove vivono popolazioni ispirate ai principi maya e dice non scusate per il disturbo ma questa è una rivoluzione diciamo la caratterizzazione di queste persone che appartengono alla rivoluzione zapatista sono questi passamontagna e poi il progressivo disarmo della regione una delle regioni in cui si utilizzano circolano meno armi al mondo proprio secondo uno dei principi degli stessi maya instaurati nel territorio questo un po' per darvi contessa del fatto che quando pensiamo alle grandi civiltà mesoamericane dobbiamo pensare anche all'estrema attualità del presente questa invece è una linea temporanea che non vi chiedo di imparare ma solo perché abbiate contessa del fatto che quando arrivano gli spagnoli non trovano tutte le civiltà al massimo del suo splendore alcune civiltà sono già decadute come gli olmechi che sono in qualche modo lo solmecas sono una civiltà che ha vissuto il suo splendore tra il 1500 e il 400 avanti Cristo la civiltà olmeca è quella che ha ispirato la visione culturale spirituale del territorio che ha ispirato anche il famoso fuego della pelota che menzionava qualcuno di voi nel primo esercizio e dalla cultura olmeca si sviluppano poi quelli che conosciamo come astechi o mexicas a secondo delle definizioni vedete però che sicuramente la cultura millenaria per eccellenza della regione è la cultura maya cultura maya che quando arrivano gli spagnoli è già in parziale decadenza perché perché gli astechi che si trovano in questa regione viola avevano progressivamente occupato la regione dello Yucatan ovvero il sud est del Messico e una questa parte del Guatemala che era appunto sotto il controllo maya e sotto il dominio maya quando pensiamo all'area mesoamericana in epoca di indipendenza ovvero nell'ottocento dobbiamo sempre considerare che fino alle guerre con gli Stati Uniti della metà del secolo XIX il Messico aveva un territorio molto più ampio che comprendeva il Texas la California la Nevada il Nuovo Messico Utah il Colorado e Wyoming quindi diversi stati del sud degli Stati Uniti all'epoca appartenevano al Messico quindi l'influenza della cultura ispanoamericana nel sud degli Stati Uniti è spiegata parzialmente dall'enorme migrazione di questi decenni ma parzialmente anche dal fatto che sono stati per diversi decenni nello stato messicano quando parliamo di culture indigeni in Messico ci riferiamo a 69 popoli indigeni circa 15 milioni di persone quindi più o meno un 10% della popolazione si definisce indigeno ma solo la metà parla ancora una lingua che si parlava prima della conquista spagnola questo dà contezza di un processo particolarmente vivo in Messico ma che è condiviso con una buona parte del continente di progressiva omogenizzazione culturale di alcune società indigene infatti il Messico ha sofferto un processo conosciuto nella storia culturale del continente come la campesinizazione dell'Indio ovvero la contadinizazione dell'indigeno cosa si intende? si intende un processo politico implementato tra gli altri dal più famoso degli indipendentisti latinoamericani Simon Bolivar in cui si ambiva in qualche modo a eliminare le diversità etniche costruire un uomo nuovo figlio del meticciato tra le culture europee le culture africane le culture indigene in cui sostanzialmente le culture indigene si dissolvessero in questo uomo nuovo e quindi tutte le aree rurali della nazione messicana venivano in qualche modo sono state progressivamente accorpate culturalmente all'idea del campesino del contadino senza tenere conto delle società delle visioni del mondo che si avevano sottostavano due parole sul Guatemala Guatemala appunto un piccolo stato grondante di cultura la parola Guatemala deriva dalla lingua Nahuatl quindi dalla lingua parlata agli Astechi Guatemala luogo di molti alberi un importante sociologo Yvon Lebot definisce il Guatemala come il paese masindio dell'America Latina il paese più indigeno dell'America Latina proprio per questa enorme percentuale di popolazione che si autodefinisce indigena soprattutto Maya infatti sono 6 milioni sui 15 milioni di abitanti del Guatemala oltre ai Maya ci sono i Garifuna e gli Xinka ma certamente la cultura Maya è quella preponderante infatti in Guatemala si parlano 23 lingue oltre allo spagnolo 21 di S appartengono alle cosiddette lingue Mayenses quindi la grande famiglia delle lingue Maya la storia delle società indigeni in Guatemala ha vissuto un'enorme rottura in epoca contemporanea con la guerra civile del Guatemala seconda metà del XX secolo 36 anni di guerra decine di migliaia di vittime la grande maggioranza sono indigeni Maya infatti pensando alla storia del Guatemala nel XX secolo l'antropologo Jorge Solare la definisce come una storia di un Guatemala non indigeno contro il Guatemala indigeno fortunatamente negli ultimi tre decenni il Guatemala ha vissuto un processo di pace e di riconciliazione che è divenuto un modello per il continente infine consideriamo sempre che l'area di influenza Maya include una parte dell'Honduras e del Salvador questa è un'immagine a destra del Guatemala della distribuzione linguistica vedete quante lingue in viola è il castigliano quindi lo spagnolo spagnolo parlato nel sud e nel nord del paese nella regione centrale del Guatemala sono tutte queste varietà linguistiche delle lingue Mayenses e poi il Garifuna di cui parleremo a breve questa è sempre una mappa del centro America per averla presente perché appunto la cosiddetta area intermedia si riferisce a queste geografie quindi partendo dal sud dell'Honduras e del Salvador Nicaragua Costa Rica Panama spesso vengono accorpati tutti questi paesi come se fossero un unico paese no ognuno ha le sue caratteristiche il Guatemala in particolare ha questa essenza maya che non si trova nelle altre regioni in paesi come Honduras Nicaragua Costa Rica Panama le popolazioni indigene hanno sofferto processi importanti di disgregazione sociale e di questa omogenizzazione culturale e linguistica tuttavia nell'attualità in paesi come in Costa Rica o paesi come Panama alcune regioni del territorio nazionale sono assegnate scusate il refuso per legge a popoli indigeni quindi a Panama esistono queste regioni che si denominano comarcas in cui vivono secondo le loro regole comunità società indigene i territori in Costa Rica le popolazioni più rilevanti diciamo più organizzate a livello politico tra queste popolazioni indigene che hanno dei territori semi-autonomi sono i gunadule che sono coloro che realizzano queste molas forse qualcuno di voi le ha viste questo tipo di tessuti infatti con una tecnica particolare di sovrapposizione i fogli che sono particolarmente diffusi in Centro America sono usati anche come decorazioni di capi di ogni tipo Gobe e Bribri che sono due popolazioni particolarmente presenti in Costa Rica e gli Embera sono società indigene che arrivano nella maggior parte dei casi dalla Colombia scappando dal conflitto armato dalla violenza colombiana si sono instaurati nell'occidente di Panama ma alcuni di essi c'erano già prima importante per capire questo insieme di contatti culturali è la presenza dei Garifunas i Garifunas sono un gruppo etnico discendente dal contatto tra africani e alcune popolazioni indigene Aruacos e Caribe che sono le prime popolazioni indigene in cui si imbatte Colombo sostanzialmente si è generato un nuovo gruppo etnico appunto discendente allo stesso tempo dagli africani figli e discendenti degli schiavi portati dagli spagnoli e alcune comunità indigene che hanno creato sostanzialmente una lingua mista una lingua estremamente particolare la lingua garifuna e una società in cui queste due culture ugualmente importanti nella fondazione dell'America Latina contemporanea ma spesso considerate divise quindi la cultura afrodiscendente e la cultura indigena sono entrate in contatto fino a costituire sostanzialmente una nuova società una piccola curiosità che dà un po' traccia di quello di cui abbiamo parlato quando ci siamo riferiti alla furia nominatrice di Colombo nelle scuole dell'Honduras si studia che la parola Honduras deriva da una frase pronunciata da Colombo dopo aver attraversato una zona particolarmente complessa ai Caraibi molto profonda che avrebbe pronunciato queste frasi grazie a Dio salimos destas Honduras grazie a Dio siamo usciti da queste profondità Honduras significa profondità in spagnolo questa frase è così circolata negli immaginari al momento di costituire lo stato honduregno che uno dei dipartimenti quindi una delle ragioni dell'Hondura si chiama grazie a Dio grazie a Dio e dà un po' contessa di quello che è stato l'assunzione e l'interiorizzazione dello sguardo colombino nella costituzione di questa area dell'America che è una delle prime in cui Colombo si è imbattuto nonostante poi di fatto questa frase Colombo non l'abbia mai pronunciata è stata attribuita a lui un paio di centinaia di anni dopo erroneamente da uno storico quando pensiamo all'area intermedia a questa regione a questa parte dell'America Latina dobbiamo avere contesti di una regione spesso dimenticata dimenticata geograficamente dimenticata l'America Latina che è il tapon del Darien cos'è il tapon del Darien forse alcuni di voi sanno che l'America da nord a sud si può attraversare nella famosa ruta panamericana la via panamericana diciamo ispirazione di tanti diari di viaggio di motociclisti nella contemporaneità questa lunga strada che parte dall'Alaska attraverso il Canada dagli Stati Uniti il Messico il Centro America e poi tutta la parte del Sud America quindi Colombia Perù Ecuador Perù Cile e poi ci sono due varianti o attraverso il Cile o attraverso l'Argentina una via profondamente interiorizzata negli immaginari soprattutto contemporanei del viaggiatore europeo che vuole esplorare il continente ma ciò che spesso non si sa di questa via che attraversa tutto il continente che ha una sola interruzione il cosiddetto tapon del Darien qua c'è un dettaglio al confine tra Panama e la Colombia quindi al confine tra Centro America e Sud America c'è un'enorme foresta che non è su cui non si è mai riusciti a costruire una strada è l'unico o uno dei pochissimi confini terrestri al mondo senza strade dalla Colombia a Panama non si può passare diciamo così in macchina bisogna per forza prendere un motoscafo o nei tempi contemporanei drammatici tanti migranti che vogliono andare verso gli Stati Uniti attraversano questa foresta camminando per dieci giorni quest'area ha diciamo un valore simbolico estremamente rilevante perché per capire quelle che sono le relazioni tra i conquistatori le popolazioni indigene e la natura perché perché nel Darien è stata costruita la prima città spagnola nel territorio continentale nel 1510 dopo una serie di viaggi si decide di costruire la prima città Santa Maria l'Antigua del Darien città di cui noi non sappiamo nulla perché perché 14 anni dopo questa città sostanzialmente scompare tra le difficoltà di convivere con una selva così aggressiva con una popolazione indigena quella gunadule che si oppone alla presenza spagnola radicalmente distrugge la città e con una serie di epidemie tropicali del territorio quel tentativo spagnolo in cui le comunità indigene alleate con la natura distruggono il proposito spagnolo di costruire la prima città è solo il primo di una lunghissima serie di tentativi europei di dominare il Darien ne menziono alcuni qua alcuni qua a fine seicento la Scozia uno stato che non conosciamo come uno stato imperiale come uno stato coloniale prova a costruire la sua prima colonia in questa regione 1698 la Scozia organizza una spedizione in cui investe un'enorme parte dei fondi statali per costruire la nuova Caledonia Caledonia è il nome latino della Scozia questa spedizione fallisce completamente gli scozzesi tutti gli scozzesi che viaggiano nel Darien muoiono divorati dalla foresta dalle difficoltà tropicali dagli animali che vivono nella foresta la Scozia fallirà a livello economico e da quel giorno da quel momento diverrà completamente dipendente dall'Inghilterra come sappiamo essere tuttora quindi il Darien si divora in qualche modo gli istinti diciamo i propositi imperiali i propositi coloniali della Scozia di cui infatti non abbiamo traccia un altro tentativo solo per menzionarne alcuni dei tantissimi fino a 800 1879 la Francia decide di dirigersi in questa regione per provare a costruire il famoso canale di Panama nel Darien siamo in questa regione il territorio è molto stretto non c'è ancora una connessione tra Atlantico e Pacifico ci provano i francesi con la compagnia universale del canale interoceanico di Panama ancora una volta l'operazione sarà un fallimento che genererà il cosiddetto scandalo di Panama in Francia gravissimi debiti per il paese ingegneri francesi muoiono continuamente in questo progetto che doveva durare pochi mesi finisce durando decenni impantanandosi e di fatto fallendo quindi neanche i francesi riescono a dominare una regione in cui già vivono delle persone che hanno una relazione assolutamente armonica con questa natura che all'occhio europeo sembra così aggressiva e demoniaca ovvero le comunità Laguna Dule gli stessi Stati Uniti che appoggiano la guerra tra Colombia e Panama per la separazione di Panama per avere poi il dominio di Panama e poter costruire il canale a Panama quindi nel Darien capiscono che non possono costruire il canale nel Darien infatti il canale di Panama attraverso un'altra regione di Panama molto meno selvatica ma comunque avranno diversi problemi nel costruire il canale poi come sappiamo il canale costruito negli anni 40 e il 900 rimarrà sotto il controllo degli Stati Uniti fino a 20 anni fa quando Panama finalmente riesce ad acquisire il diritto di usufruirne quindi questa regione quando parliamo di area intermedia è una regione estremamente simbolica perché divide il centro dal Sud America oggi è uno strumento politico oggi ci sarebbero i mezzi per costruire una strada che attraversa che connette la Colombia a Panama ma sicuramente uno strumento naturale di detenzione dei grandi flussi migratori dal Sud al Nord del continente che conosciamo una menzione all'area caraibica l'area caraibica perché è così rilevante perché Colombo non conosce l'America Colombo conosce i Caraibi e gli immaginari che abbiamo dell'America nascono e vivono tuttora a partire dall'impressione dei Caraibi che ha Colombo i Caraibi disegnano l'immaginario di America che si sviluppa in Europa di un'America paradisiaca con questo immaginario che tuttora abbiamo quando pensiamo all'America Latina pensiamo a queste spiagge cristalline a questa natura florida allo stesso tempo in convivenza con l'aspetto più demoniaco dell'America Latina che Colombo identifica negli indios ribelli che vivono in queste regioni quindi i Caraibi sono il primo spazio e più importante spazio di produzione degli immaginari latinoamericani che tuttora convivono nel diciamo nel pensiero collettivo in Europa e nel mondo nei Caraibi vivevano le prime culture indigene che hanno incontrato i conquistatori quindi Tainos e i Caribes nei Caraibi tuttavia c'è stata un'enorme influenza africana come sappiamo la cultura afro-caraibica che si traduce anche nella contemporaneità nei generi musicali in voga anche in questo periodo storico come il reggaeton nascono in queste regioni ed è appunto lo spazio di costruzione dell'immaginario americano vedete qua l'enorme diversità anche diciamo di influenze noi ci occupiamo di Cuba della Repubblica Dominicana di Puerto Rico ma ci sono una miriade di altre isole con altrettanti diciamo così altrettante relazioni culturali soprattutto legate al mondo anglofono e al mondo francofono prima di chiudere menziono la cosiddetta area andina area la seconda area insieme al Mesoamerica di maggiore sviluppo delle grandi società indigene che incontrano gli spagnoli quando arrivano in America da una parte l'impero steco con Tenochtitlan questa città sul lago dall'altra l'impero inca altrettanto glorioso altrettanto sofisticato con un livello di conoscenza astronomica di conoscenza di capacità di realizzare infrastrutture di sviluppo del pensiero culturale del pensiero spirituale immenso e imparagonabile a tutto il resto del Sud America e questo impero si sviluppa lungo tutte le ande vedete che le ande attraversano appunto tutto il Sud America dal Venezuela alle punte del Cile e dell'Argentina l'impero inca occupava quasi tutta questa regione vedete l'impero inca il Tau Antisuyu era diviso in queste quattro regioni una di esse l'Antisuyu è questa in giallo che si ha anti in lingua chechua significava oriente significava punto orientale tropicale ovvero dove le ande cadevano nell'Amazzonia e dalla parola anti deriva proprio la parola ande perché è l'est dell'impero incaico impero che si costruiva proprio sulle ande due parole sulla cultura andina quando pensiamo una cultura andina pensiamo una cultura assolutamente transnazionale una cultura che si sviluppa nella relazione col territorio una cultura andina non abbiamo equivalenti in Europa di questo processo di cultura che si sviluppa uniformemente in un territorio così ampio solo a partire dalla relazione che ha con la montagna la cultura andina è così strutturata da riuscire a un enorme processo di resistenza e di difesa culturale la resistenza andina alla conquista spagnola è stata plurisecolare in alcuni casi l'autonomia culturale dei popoli andini è durata fino all'epoca contemporanea quando pensiamo alle ande non possiamo pensare solo a luoghi isolati a luoghi inaccessibili dobbiamo pensare anche ad alcune delle più grandi città del continente Bogotà 10 milioni di persone è costruita sulle ande chito capitale ecuador è costruita anche a quasi 3000 metri di altitudine sulle ande la paz che vedete in questa immagine in Bolivia si estende completamente su un alto piano di 4000 metri città di milioni di persone che rompono un po' l'immaginario dell'uomo andino come un uomo rurale no le ande sono anche città le culture indigene delle ande sono anche culture indigene che entrano a far parte delle città soprattutto in Bolivia non succedeva solo prima come nella gloriosa città di Machu Picchu di cui forse parleremo faremo un cenno più profondo nella prossima lezione le altre due immagini rappresentano da un parte la cosiddetta ciacana la croce andina una croce che simbolizza le 12 punte secondo le 12 stelle osservate secondo la prospettiva astronomica della cultura inca e quindi il modo di osservare il cielo che avevano le persone inca che è stato utilizzato anche diciamo come modello di un sistema infrastrutturale le grandi vie andine vengono costruite proprio secondo questa forma diciamo a 8 punte le città si estendono in questo modo e un'ultima immagine che vuole ancora dare traccia della assoluta presenza della cultura andina nella contemporaneità questa immagine in basso a destra è una riproduzione del cosiddetto nuovo anno andino il 21 giugno la fine dell'inverno nel sud del mondo si celebra nelle culture Aymara e Quechua tra Perù e Bolivia questa fine diciamo dell'epoca fredda è la possibilità di tornare a seminare la terra quindi un festeggiamento basato nella relazione tra l'uomo e l'agricoltura e vedete qua la bandiera proprio dei popoli andini la Wipala che sicuramente avete visto riprodotta in altre immagini giusto per dare contezza di cosa stiamo parlando quando parliamo di culture andine oggi oltre 10 milioni di persone tra Perù e Bolivia e Ecuador parlano il Quechua oggi la lingua Quechua 10 milioni di persone quindi non è una lingua morte non è una lingua del passato e lo stesso vale per l'Aymara parlato da 2 milioni di persone in Bolivia Bolivia che è l'altro grande paese a sostanziale maggioranza indigena o quasi maggioranza indigena come il Guatemala settimana settimana prossima chiuderemo questo piccolo tour per l'America lingua spagnola vedendo l'area amazzonica e l'area patagonica e inizieremo a entrare nel vivo di quelle che sono le letterature ispanoamericane e la grande questione indigena nelle letterature ispanoamericane se avete dubbi questo è il momento se no ci vediamo mercoledì prossimo grazie grazie no come si è verificato un errore no certo certo